È rientrato in Italia da alcuni giorni. Marco Squilloni, 37 anni, vigile del fuoco pratese, in servizio qui a Prato dal 2011. È una delle 50 unità del gruppo Usar dei vigili del fuoco che ha operato la scorsa settimana nei territori devastati della Turchia, precisamente ad Antiochia. Stamani l'incontro con la stampa per raccontare come ha operato questa squadra composta da personale toscano e laziale in quei territori e ovviamente spiegare ai giornalisti che cosa resta di quell'esperienza. Che scenario si è trovato di fronte innanzitutto? Dire uno scenario devastante forse è un po' riduttivo. Comunque sì, è un evento catastrofico di dimensioni enormi. Ecco, questo sì. Come vi siete organizzati operativamente sul campo per intervenire? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati è trovare un punto dove instaurare un campo base. Da lì sono cominciate le prime fasi di assessment, cioè di verifica dei siti di lavoro e successivamente la squadra, tutto il team si è organizzato in turnazioni di squadre di lavoro che hanno permesso il lavoro sui vari siti, sui vari cantieri fino al raggiungimento dell'estrazione di alcune vittime. Appunto abbiamo estratto due persone vive, subito il primo giorno arrivati e questo ci ha dato sì molta forza di andare avanti. Quali erano le difficoltà principali? Oltre ovviamente ad operare molte volte a mani nude in uno scenario difficile con gradi bassissimi di temperatura? Uno degli aspetti che forse la popolazione ci ha dato una mano è la parte linguistica, cioè lo scalino che si formava fra noi italiani e la parte turca. Questo è stato un pochino… ci hanno aiutato dei ragazzi, dei volontari delle città limitrofi che si sono messi a nostra disposizione in modo da tradurre da inglese a turco e fare un po' di tramite in tutti i giorni della nostra permanenza sul posto. La popolazione, lei ha detto, vi ha fatto sempre sentire la propria vicinanza portando via anche del tè caldo. Sì, sì, c'era pieno appoggio alla popolazione, chiaramente una popolazione che ha avuto un evento sismico inimmaginabile che comunque riesce sempre a essere grata a chi gli porta a soccorso. Il comando di Prato, seppur piccolo, rappresenta veramente un'eccellenza nell'ambito dell'erogazione del soccorso. Noi partecipiamo a tutte le specialità del Corpo Nazionale, qui a Prato abbiamo un campo macerie specifico per l'addestramento delle unità cinofile e ci sono diversi vigili del comando che hanno la formazione USAR che sta per Urban Search and Rescue, quindi ricerca sotto macerie, e interviene tutte le volte che sia in ambito nazionale e che internazionale si verificano dei sismi.